Wow! Che figata! Ehi, straniero. Ti piacerebbe conoscere un segreto? Per caso lei è una guida? Sì, sì, sono una guida. Se segui questa strada, arrivi dall'altra parte del mondo. Ah, ci fischio! Ah, scusa, per la consulenza fanno 80 euro. Ah, 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 ah! Eh? Ma che diavolo? Te l'avevo detto che arrivavi dall'altra parte del mondo! Ah, temo di essere stato pierfischiato! Ah, a ci fischio! Ciao, sono Pierfischio, fai come me, iscriviti al canale YouTube delle Stortis!